Un appello, ma al tempo stesso un avvertimento, quello che arriva dal sindaco di Ribera nei giorni in cui le temperature sono notevolmente aumentate e già si sono verificati i primi incendi di stagione. Carmelo Pace oggi ricorda che il 16 maggio scorso è stato siglato un protocollo d'intesa tra la procura della Repubblica di Sciacca, le forze dell'ordine e i sindaci dei comuni del circondario. Sono state concordate in merito agli incendi boschivi nei centri abitati o nelle periferie nuove modalità di indagine e viene posta maggiore attenzione, oltre che all'eventuale piromane e anche e soprattutto agli obblighi dei proprietari dei terreni. Questi ultimi, secondo l'ordinanza sindacale dello scorso mese di maggio, sono tenuti a non accendere fuochi, a pulire i terreni dalle serpaglie, a creare parafuochi e altri accorgimenti obbligatori per legge. In difetto, qualsiasi incendio interesserà il loro terreno, sarà oggetto di indagini e di verifica del rispetto delle attività obbligatorie per la prevenzione degli incendi. E per il mancato rispetto di quanto prescritto, sono previste sanzioni pecuniarie. Insomma, se prima l'attenzione era rivolta verso i gnoti, adesso i proprietari saranno il primo oggetto di indagine e verifica. Pertanto, tutti i proprietari di lotti interclusi, afferma il sindaco Pace in considerazione dell'ordinanza sindacale che prevede onerose sanzioni, sono invitati a provvedere alla pulizia immediata dei terreni dalle serpaglie e ad altri accorgimenti obbligatori.